Chi è legato alla carne deperisce, come la carne che è in noi deperisce. Ma la morte mentale avviene prima, forse alla prima accettazione di un ordine che non è concordia dei diversi, ma inganno e privilegio del potere. Per non tradire bisogna avere cento occhi, ma la ricompensa è la miseria. Per non mentire bisogna avere cento braccia, ma la ricompensa è il disprezzo. Per non essere leggeri bisogna essere leggeri, ma la ricompensa è il silenzio. Per non essere crudeli bisogna essere crudeli, ma la ricompensa è la solitudine. Seguire il Vangelo, non peccare in spirito, può portare in prigione, ma la prigione è aperta.